cari amici di visione tv benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è pino casamassima giornalista e scrittore ciao grazie per essere con noi lo scorso anno proprio nel mese di marzo è stato pubblicato questo lavoro facciamolo vedere eccolo qua pino casamassima brigate rosse dalle origini fino al delitto biaggi perché hai sentito il bisogno di scrivere questo lavoro su un tema così complesso che ancora rappresenta una ferita profonda nella nella storia del nostro paese in realtà io me ne occupo da una ventina d'anni il primo li finora dei 50 e passa liberi pubblicati almeno una dozzina riguardano per l'appunto queste storie relative alla al periodo di chiamiamolo così effervescente degli anni di piombo delle stragi eccetera io avevo già pubblicato diversi libri sulle brigate rosse il primo proprio brigate rosse era stato è uscito nel 2007 in occasione della ventennale dell'omicidio di marco biaggi che in buona sostanza rappresenta una sorta di sipario e chiude finalmente questa esperienza drammatica della lotta armata con la mia editrice elisabetta subgarbi vado a dire l'editrice della baldine castoldi hanno deciso di fare questo libro come una sorta di compendio a chiusura a chiusura totale di una lunga stagione di lotta armata ora infatti non a caso questo libro consta di oltre 1100 pagine proprio perché vuole essere una sorta di compendio finale definitivo cosa resta di questa di quella stagione di violenza l'esperienza soprattutto per quanto riguarda le forze dell'ordine per quanto riguarda i servizi per quanto riguarda una attenzione che all'epoca è stata un po latitante basti pensare che quando aldo moro viene rapito il 16 marzo del 78 in via fani la sua scorta aveva le armi lunghe nel bagagliaio della affetta e oggi ho detto tutto da quel momento in avanti si è sviluppata l'intelligence è una un livello di servizi come pochi altri al mondo non solo in europa al mondo io credo che in europa soltanto il mossad sia più efficiente dei servizi italiani se consideriamo ad esempio che noi in italia abbiamo il vaticano e ben possiamo immaginare quante volte abbiano potuto pensare di giadisti di attaccare di compiere un qualche attentato sul territorio italiano in virtù della presenza del vaticano e tutto questo non è mai accaduto è accaduto in germania è accaduto in spagna è accaduto in inghilterra perfino in inghilterra è accaduto in francia e da noi no questo a significare che i servizi avevano lavorato bene servizi che avevano appunto fatto quell'esperienza in quegli anni c'è ancora qualcosa di non detto rispetto a quella stagione sicuramente c'è ma io personalmente ritengo che siano dettagli poco significativi cioè dettagli che in buona sostanza non cambiano l'impalcatura di una narrazione per come la conosciamo compreso il compreso il rapimento l'omicidio moro come nascono le brigate rosso e biere nascono le dirò spiegherò con una frase lapidaria di tonino paroli che era un brigatista della prima della prima ora per intenderci quella della ligliata di curcio franceschini margherita cagolla prosto le darinari e appunto tonino paroli e quando gli chiesi per l'appunto come feci questa domanda semplice semplice no tanto semplice quanto complicata com'è com'è che siete nati e lui mi rispose noi siamo nati con l'intento di stare un passo avanti a lotta continua a potere operaio erano due delle formazioni della sinistra extra parlamentare più rappresentative dell'epoca ce n'erano tante 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 altre però queste due erano diciamo le più rappresentative le più importanti di stare appunto un passo davanti a queste organizzazioni della sinistra extra parlamentare che secondo noi facevano tanta tante parole e pochi pochi fatti di stare un passo davanti allora per quanto riguarda un progetto politico non c'è mai stato nel senso che sempre per le parole di paroli lui mi ha detto noi sapevamo di essere partiti non sapevamo quale sarebbe strada la strada che avremmo percorso né quale sarebbe stata la meta finale ci sono stati casi di infiltrazione dentro le br da parte di poteri più o meno occulti fin dall'inizio fin dall'inizio sicuro il più clamoroso è quello di cosiddetto frate mitra e cioè colui il quale riesce infiltrandosi nelle brigate rosse a smantellare a decapitare la leadership iniziale tanto che poteva poteva essere un momento clou nel senso che poteva essere il momento finale delle br l'8 settembre 1974 quando per l'appunto per la soffiata per l'infiltrazione di silvano girotto alias appunto frate mitra così chiamato perché aveva vestito gli alberi telari aveva fatto il prete d'assalto chiamiamolo così impropriamente in america latina una guerriglia in america latina era poi rientrato in italia e aveva aiutato i carabinieri per l'appunto a smantellare le brigate rosse 8 settembre 1974 vengono arrestati il curcio e franceschini che in buona sostanza rappresentavano la leadership delle biere poi c'è stato anche il caso di pisetta che è stato un altro infiltrato insomma sono state infiltrate più volte le brigate rosse ci sono dei libri particolare penso a quelli di fasanella ma non solo e delineano gli opposti estremismi degli anni settanta come funzionali diciamo a poteri sovranazionali esterni che volevano come dire arrestare il periodo di crescita economica democratica del nostro paese sei d'accordo con questa tesi no e lo sa bene il fasanella che non sono d'accordo con questa sua tesi fasanella ha fatto del complottismo la sua cifra narrativa secondo me e ovviamente non è d'accordo con la mia di impostazione io ritengo che la sua sia un'impostazione viziata dal fatto che veda tutto con il cannocchiale del complotto dei poteri occulti dei servizi dei servizi deviati italiani e stranieri quando in realtà le cose sono drammaticamente molto più lineari più semplici ecco proviamo allora a cercare di capire perché in realtà le cose sono più semplici di come ce le si possa immaginare ad esempio parliamo della vicenda più grave che ha cambiato definitivamente il corso della nostra storia politica e probabilmente anche il corso dell'europa volete il rapimento e l'omicidio di aldo moro ecco qui troppe cose strane sono successe troppe troppe manine sono intervenute troppe troppe inesattezze troppi errori ecco secondo te sono stati tutti casuali cioè non c'era una vera regia dietro la pianificazione ma nessuna regia nessuna regia io veramente trovo veramente stucchevole che a distanza di oltre 40 anni non si non se ne faccia ragione di una cosa molto semplice che un gruppo armato comunista chiamato brigate rosse è riuscito a rapire l'uomo politico più importante e più in vista del momento tenerlo prigioniere per 55 gianni e poi ucciderlo alla fine non c'è si fa ragione deve esserci per forza una regia esterna deve esserci per forza qualcosa che ha eterodietto eccetera 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 no la storia è molto più semplice comunque comunque io ho sempre detto e ho sempre scritto che quella storia è una storia che ha ovviamente anche delle cose che non sono ancora uscite e non so mai se usciranno del tutto ma sono comunque risibili rispetto al contesto generale il contesto generale è nelle carte di cinque processi e due commissioni parlamentari l'inchiesta io personalmente ho rifiutato l'audizione dell'ultima commissione parlamentare polemicamente ho rifiutato l'audizione con una lunga lettera mandata al suo presidente vale a dire giuseppe fioroni lettera che ho pubblicato proprio in quel volume che voi avete fatto vedere brigate rossi perché secondo me non c'era non c'era nulla di nuovo da estrapolare da quella storia che però fosse supportato da documenti da fatti perché altrimenti io vado al bar e racconto che in via fani c'era di tutto e di più tutto quello che io dico a livello storico deve essere supportato da documenti da fatti e non ci sono non ci sono ma la storia di gradoli della seduta spiritica quella come la spieghi quella della seduta spiritica andrebbe chiesta al professor prodi io mi sono fatto un'idea parlando con qualcuno a bologna non vado oltre e cioè e cioè lui insegnava a bologna tra i suoi studenti evidentemente c'era qualcuno dell'autonomia bologna all'epoca era il cuore dell'autonomia operale insegnava per l'appunto lì qualcuno dei suoi studenti apparteneva per l'appunto all'autonomia gli è arrivato gli è arrivata una soffiata precisa relativamente a via gradoli e il professor prodi ha pensato bene di dire questa cosa che veramente non saprei come qualificarla che con una seduta spiritica era saltato fuori questo nome gradoli a proposito ne approfitto per anche su questo punto vedi alcune volte le narrazioni diventano siccome vengono ripetute tante volte su crinali sbagliati fasulli o volontariamente o involontariamente comunque vengono ripetute tante volte da diventare verità è passata la vulgata secondo la quale addirittura l'esercito si sarebbe precipitato nel paesino di Grado rimettendo la ferro e fuoco per cercare per cercare la prigione di Moro e nulla di tutto ciò è vero non è vero non è vero comunque come è stato fatto lui professor prodi com'è che come come è saltata fuori questa questo nome di gradoli è saltato fuori abbiamo fatto una seduta spiritica e io in più pubblicazioni ho scritto prendendo un po' in giro il tutto tutto ciò è notorio che quando alcuni professori universitari si trovano in una casa sui colli bolognesi in una domenica allora cosa si e comincia a piovere cosa facciamo una seduta spiritica normale fare una seduta spiritica una cosa talmente adisibile che lascia il tempo che trova proprio ecco magari ha fatto una bella carriera anche per questo prodi chi lo sa a proposito di complottismo c'è questa c'è questa strana figura di steve pieznick consulente americano dipartimento americano dipartimento americano che era componente del comitato di crisi voluto da corsica quest'uomo ha rilasciato dichiarato una figura strana insomma un po' ambigua ha rilasciato poi delle dichiarazioni strane dicendo ma Moro non andava salvato questo è un altro mistificatore avvelenatore di pozzi chi è? sì 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 lo ha anche detto dopo eh cioè prima ha avvelenato i pozzi e poi lo ha candidamente riconosciuto e detto ha detto che aveva sparato una serie di minchiate come dicono a Palermo no? in funzione di un libro che sarebbe stato pubblicato e poi aveva pubblicato siccome ovviamente quello che attrae di più non è la chiarezza no? quello che attrae di più è il mistero non attrae la porta spalancata attrae il buco della seratura no? ecco tutto questo fa suggestione e più io alimento la suggestione anche attraverso una serie di falsità più chiaramente ne trovo vantaggio ecco però al di là degli aspetti come dire suggestivi che poi chiaramente attirano di più c'è un dato politico obiettivo cioè Moro era all'epoca un uomo decisivo per la vita politica italiana attraverso il rapporto con Berlinguer stava superando una vecchia architettura politica che probabilmente faceva comodo a chi voleva blindare opposti estremismi Berlinguer aveva subito uno strano attentato in Bulgaria e le Brigate Rosse se la prendono proprio con Moro diciamo forse sbagliando bersaglio perché non era lui probabilmente l'uomo che rappresentava meglio di ogni altro la furia contro le classi proletarie sfruttate ecco nell'individuazione di un obiettivo come Moro non è detto che i vertici dovessero essere necessariamente infiltrati o manovrati però forse ci sono state delle operazioni più sottili che hanno indicato un bersaglio che forse serviva più a chi lo indicava che non agli autori materiali dell'omicidio visto che poi le BR sono finite proprio all'indomani dall'omicidio Moro e chi è che lo indicava? questo io non so immagino che i nemici di Moro ad esempio uno poteva essere Kissinger che lo aveva minacciato in maniera precisa o è fantascienza allora proviamo a rimettere i puntini sulle famose I Moro non era l'obiettivo tanto per incominciare e qui abbiamo bello che ha smontato tutta una bella architettura complottistica non era l'obiettivo Moro l'obiettivo era Giulio Andreotti solo che dopo che le Brigate Rosse fanno quella che loro chiamano l'inchiesta cioè seguono un obiettivo nei suoi spostamenti, le sue abitudini ma non per un giorno o due, per mesi e dopo di che mettono in piedi l'agguato dopo aver verificato l'impossibilità di rapire Andreotti perché abitava in centro a Roma e ciò avrebbe significato avere zero via di fuga Bonisoli, Franco Bonisoli una mattina vede passare il corteo insomma vede passare macchine la macchina di Moro e la scorta e la macchina di scorta e riconosce per l'appunto il presidente della democrazia cristiana scudio il percorso viene discusso poi nell'esecutivo e lì si decide di rapire Moro perché studiando per l'appunto quel percorso si scopre che è un percorso facile per una via di fuga come in realtà poi sarà ora è un obiettivo di seconda scelta Aldo Moro e tutto questo evidentemente smonta da solo tutto un complottismo che vorrebbe ricondurre fuori dalle brigate rosse l'indicazione dell'obiettivo medesimo l'obiettivo è scelto dalle brigate rosse peraltro in modo casuale ovviamente stiamo parlando di un personaggio di primo piano non è che stiamo parlando di un peone della democrazia cristiana stiamo parlando del presidente della democrazia cristiana stiamo parlando di un uomo quale Aldo Moro una delle più importanti statistiche di quel momento però tornare a ripetere l'obiettivo principale primario era Giulio Andreotti si sarebbe potuto salvare Moro le trattative potevano portare a un risultato diverso? non credo purtroppo per una ragione ecco solo Craxi era favorevole alla trattativa sia i comunisti che l'ADC invece erano per la linea d'Ur Craxi e i radicali soprattutto Craxi e il partito radicale che erano già stati protagonisti di un'altra trattativa nel 1974 quando era stato rapito il giudice Mario Sossi la vicenda Moro a quel finale di partita così drammatico proprio perché c'era stato nel 1974 il rapimento Sossi che era terminato come era terminato vale a dire con la consegna dell'ostaggio allo Stato e due schiaffi in faccia ricevute dalle Brigate Rosse in quanto lo Stato da parte sua non aveva corrisposto l'accordo preso l'accordo era che noi vi consegniamo vivo il giudice Sossi voi ci date alcuni dei compagni della banda 22 ottobre che sono in galera si mise di traverso il la corte d'appello si mise però di traverso il procuratore generale di Genova Francesco Cocco e non se ne fece più nulla non casualmente il primo omicidio programmato dalla parte delle Brigate Rosse per il giugno 1976 è quello di Francesco Cocco quando le biere poi rapiscono Moro si infilano in un cul de sac da cui non possono assolutamente più uscirne nel momento in cui dichiarano la condanna a morte con il comunicato numero 5 di condanna a morte del prigioniero a quel punto si sono infilati in un cul de sac da cui non potranno assolutamente uscirne più se non se non con l'omicidio dell'ostaggio stesso perché se avessero riconsegnato Moro vivo come era successo con Sossi a quel punto avrebbero potuto chiudere baracca e burattini ovviamente sarebbe stato meglio per noi però avrebbero potuto chiudere baracca e burattini perché non aveva più senso la loro presenza Le biere di Curcio sono una cosa diversa rispetto a quelle di Moretti? anche questa è una vulgata abbastanza fasulla nel senso che non esistono le Brigate Rosse buone e le Brigate Rosse cattive Curcio e Franceschini vengono arrestati nel 74 come abbiamo detto Curcio viene arrestato la seconda volta nel gennaio del 76 dopo un conflitto a fuoco dove c'è dentro anche Nadia Mantovani con lui conflitto a fuoco cosa vuol dire? vuol dire che io sparo a te tu spari a me vuol dire che metti in conto di poter togliere la vita o perderla la vita ed è in buona sostanza tutto quello che faranno da quel momento in avanti cioè dal momento in cui la Lidicep sarà presa da Mario Moretti che passerà attraverso il fatto di poter ricevere la morte e dare la morte nel 75 muore Margherita Cagol a proposito di questo scusami se non muore perché le cade una tegola in testa muore perché appunto arrivano i carabinieri in conflitto a fuoco ecco a proposito di questo recentemente Curcio ha fatto capire che è stato ucciso a sangue freddo è possibile? sì no ma questo è questo è questo lo si sapeva da 30 anni perché da anzi da da più di 40 anni da quando c'era stata da quando si era potuti accedere alle carte relative alla relative all'esame autoptico di Margherita Cagol quell'esame aveva riscontrato un foro d'entrata sotto l'ascella e quindi evidentemente se era un foro d'entrata sotto l'ascella significava molto semplicemente che la Cagol stesse con le braccia alzate perché altrimenti altrimenti il foro d'entrata sarebbe stato dal braccio e poi sarebbe penetrato nel torace ma invece no andava direttamente nel torace a questa altezza significa che era con le braccia alzate sì sì fu un'esecuzione fuori di dubbio come era stata per degli esposti ma qui ci spostiamo di territorio anche a livello politico nel 30 maggio 1970 al Pian del Rascino viene ucciso Carlo degli Esposti in una situazione in una situazione similare in quegli anni sono stati caratterizzati dalla violenza di gruppi di estrema sinistra ma anche di estrema destra ecco pensiamo alle condanne per la strage di Bologno Piazza Fontana insomma c'erano tanti gruppi eversivi che si richiamavano all'estremismo di destra ci sono delle differenze fra i gruppi terroristici come dire neofascisti e quelli invece di sinistra a livello culturale a livello culturale mi verrebbe da dire che l'azione dell'estremismo di destra del radicalismo di destra è primaria nel senso che prima si compie l'azione cioè l'azione è una cosa un tratto fondamentale è un momento di passaggio molto importante anzi più che di passaggio un momento centrale si compie l'azione e poi si elabora il successivo il successivo sviluppo politico di quell'azione a sinistra avviene l'opposto a sinistra ci sono lunghe lucubrazioni culturali politiche eccetera eccetera estenuanti prima di arrivare all'azione in buona sostanza queste sono le fondamentali differenze fra le due li devo aggiungere però che per quanto riguarda la destra eversiva neofascista radicale ha più ha più declinazioni se a sinistra la declinazione è unica vale a dire si individua un obiettivo giusto sbagliato che sia e gli si spara lo si uccide lo si gambizza lo si punisce fra virgolette no si è giudici ed esecutori mentre a destra le declinazioni da destra sono molteplici c'è un Pierluigi con tutelli che va a sparare a Occorsio ci sono i NAR che compiono tutte le adorazioni omiciliarie ad persona ma su singoli personaggi a cominciare ad esempio da un altro giudice amato però c'è anche un'altra un altro indirizzo che è quello stragista quello stragista quello stragista che è inutile che stiamo qua a raccontarcelo possiamo tranquillamente lineare una 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 la 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 stazione di bologna passando per tutta una serie di stragi che io in un libro recentemente ho chiamato per appunto la stagione delle stragi per tante che sono state ecco però dico anche queste storie sono costellate da vicende strane eh generali scritti alla P2 dei pistaggi chiarissimi poi c'è un golpe come quello tentato da Borghese dove si vedono insomma le manine anche di uomini delle istrinse delle istituzioni ci sono dei figli che sembrano portare eh in Inghilterra c'è l'arrivo di Borghese in Calabria dove incontra alcuni uomini dell'Andrangheta forse nel 69 ecco questo forse più che complottismo diciamo è una ricostruzione obiettiva no 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 ma questo è vero cioè quando le cose hanno una loro quando le cose hanno una loro certificazione ma ci mancherebbe ma ci mancherebbe c'è negli atti parlamentari quello che lei ha appena detto eh cioè non è scritto su un pezzo di carta al bar e negli atti parlamentari quello che lei ha appena detto possiamo citare anche sempre quello il golpe il golpe oltre al borghese che lei ha citato possiamo citare anche quello il cosiddetto golpe bianco di Edgardo Sogno dell'agosto del 1974 allora dico che la sua la sua idea è che l'estremismo di destra avesse in realtà legami con apparati deviati dello stato anche internazionali mentre quello di sinistra no no quello di sinistra anche quello di sinistra era infiltrato come ho detto prima no? cioè non a caso ho citato Pisetta e frate Mitra e Silvano Girotto no? però diciamo non c'era una sovrastruttura che eh poteva etero dirigere le azioni e non sceglierle per loro no 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 andiamo cosa che invece avviene a destra cosa che invece avviene a destra cioè quindi diciamo gli estremisti di destra mafia e indrangheta sono più propensi a fare il lavoro sporco per apparati non visibili sì 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 confermo eh andiamo andiamo adesso agli ultimi colpi dell'EBR perché lei chiude il suo racconto con l'omicidio Biaggi ehm l'EBR che uccidono Biaggi sono figli diciamo diretti alla successione legittima dell'EBR di Curcio Franceschini o sono un'altra cosa è una cosa di Prospero Galinari che dice eh a un certo punto le Brigate Rosse si riconoscono con le Brigate Rosse in carcere è una frase lapidaria che taglia la testa al toro sotto questo profilo nel senso che c'è un chiaro disconoscimento ehm di una continuità fra le vecchie e le cosiddette nuove lavate con Perlana con cui io scherzo spesso Brigate Rosse ehm Nadia Lioce che fa parte delle cosiddette nuove Brigate Rosse quando le Biere ehm debuttano nell'autunno del settanta era in seconda elementà e seconda media ehm non c'è assolutamente alcuna continuità fra le prime e le seconde e le nuove Brigate Rosse ehm prova ne sia che il lasso temporale che intercorre fra l'ultima azione delle prime Biere vada a dire l'omicidio di Roberto Ruffilli che è dell'88 il primo omicidio delle nuove cosiddette nuove Brigate Rosse è quello di D'Antona di Massimo D'Antona del 99 quindi passano undici anni undici anni che servono a vari gruppuscoli ehm dell'antagonismo armato che in ogni caso covano sotto la cenere di un di una alternativa per l'appunto armata scusate il bisticcio di parole che comunque sopravvive in Italia fino al momento in cui per l'appunto si aggregano sotto un unico ombrello delle cosiddette nuove Brigate Rosse sono diverse formazioni che nel frattempo avevano compiuto una serie di azioni che vengono riunite sotto l'unico ombrello delle Brigate Rosse e debuttando per l'appunto nel 99 con l'omicidio D'Antona in un momento peraltro in cui non esiste nella maniera più assoluta la possibilità di un consenso di un movimento largo come era stato per le Brigate Rosse non c'è non esiste non c'è infatti dureranno fino al 2003 quando dopo la sparatoria in treno vengono viene viene arrestata la la Lioce e ucciso Galesi e si chiude definitivamente il sipario bene facciamo un'ultima domanda eh sempre su su Moro nei documenti desegretati a che Fasanella ha pubblicato in alcuni suoi lavori si travede diciamo un certo nervosismo dell'ambasciata inglese in Italia rispetto all'operazione di Moro al suo modo di fare politica e in alcuni messaggi mandati in patria pare che si chiamasse Campbell l'ambasciatore dell'epoca dice chiaramente che se non fossero riusciti diciamo a limitarne l'azione in maniera convenzionale sarebbero passati a eh diciamo strumenti meno convenzionali ecco che questo forse non è diciamo non delinea un quadro un po' meno semplice di quello che abbiamo presentato e dove sono dove sono le prove di tutto ciò? cioè voglio dire eh questa è una storia scritta con il retrovisore cioè io dopo sulla base di quello che è successo prima ricostruisco e si chiama revisione dico forza insomma se alcuni possiamo dire di tutto guardi di tutto no no dico io mi rendo conto che magari c'è un modo diverso di interpretare i fatti chissinger che aveva scosso in maniera energica Moro e quindi chissinger fa sì che Moro venga ucciso gli inglesi fa sì che Moro venga ucciso il KGB vede come fumo negli occhi chiaramente Mosca vede come fumo negli occhi chiaramente il compromesso storico per ovvie ragioni e allora e allora anche il KGB cioè in via Fani sono posti in piedi c'era il KGB c'era la CIA c'erano gli inglesi c'erano i Mossad c'erano la Stasi c'erano perfino le Brigate Rosse io capisco questo punto di vista semplicemente obiettivamente il quadro era molto complesso poi da qui ad arrivare a dire che c'è una responsabilità diretta naturalmente ce ne corre però se lei ricorda all'inizio della nostra conversazione io ho detto che ci sono diverse zone d'ombra parecchie zone d'ombra per fare un esempio se io lascio un cane affamato in giardino e la invito a cena e il cane la sbrana magari tecnicamente è stato il cane però io ho creato le condizioni affinché lei venga sbranato ecco non so se mi spiego forse è andato un po' così sì ho capito ho capito perfettamente però tutto questo dove ci porta? a che cosa ci porta? al fatto che le biere erano letterodirette? no per me no va bene io la ringrazio molto per questa sua disponibilità facciamo ripetere il libro in conclusione dell'intervista eccolo qui Pino Casamassio Brigate Rosse è uscito per mi diceva la casa editrice Castoldi Baldini e Castoldi Baldini e Castoldi nel marzo dello scorso anno grazie ancora per essere stato con noi a voi bene cari amici di Visione TV grazie per aver seguito questa nostra intervista vi ricordo che noi viviamo solo grazie alle vostre libere donazioni non abbiamo finanziatori esterni né pubblicità se apprezzate il nostro modo di fare informazione aiutateci tornando ai numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione grazie ancora a tutti voi e una buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti